Siamo penosi ragazzi, siamo penosi, siamo penosi, svestiamo questi giocatori di questa maglia, svestiamo tutti quanti, a partire dalla proprietà, dalla dirigenza, all'allenatore, ai giocatori, ai magazzinieri, svestiamoli di questi indumenti, svestiamoli perché non se ne può più, non se ne può più, di tutti, non se ne può più, non se ne salva mezzo, penosi, penosi, poi ragazzi il Napoli ha strameritato, ha fatto la sua partita, è una grande squadra ragazzi, e quando inizieranno a giocare contro le grandi squadre si vedrà, perché tutti dicevano, da adesso vediamo, da domani, non da adesso, perché oggi ha giocato comunque ancora con una piccola, dalla prossima inizierà a giocare con una grande, perché ragazzi oggi noi siamo stati una piccola, siamo stati imbarazzanti, contro il Napoli ha creato molto di più il Lecce, siamo imbarazzanti, siamo imbarazzanti, e poi che tristezza ragazzi, che tristezza, non lo so, no, non, poi a me non mi piace poi prendermela solo con i miei giocatori o con la mia squadra, perché così vuol dire togliere meriti all'avversario che è venuto qua ragazzi, ha fatto una partita con i controcazzi, lasciatemelo passare il termine, scusa, l'ha fatta proprio così, perché è venuto qua, ha iniziato subito alla grande, è andata subito sui binari giusti passando in vantaggio e ha fatto la sua partita, al Napoli ragazzi non gli fai gol, neanche sotto tortura gli fai gol, e se tu inizi molle come praticamente il 99,9% delle partite che abbiamo giocato quest'anno, prendi gol e gliela metti proprio proprio, sul tappeto rosso, sul vassoio d'argento gliela dai la partita, perché il Napoli in vantaggio, riuscire a soffrire, a chiudere gli spazi, a compattarsi, è la migliore di questo campionato, è la migliore, lo ha dimostrato ragazzi dopo la prima gara dove ha preso tre gol, non ha più preso, ragazzi il Napoli ha la miglior difesa, ha subito due gol in nove partite, due gol in nove partite perché ne ha subite tre nella prima e poi negli altri nove ne ha subite due, perciò se tu fai una partita di questo genere qua e gli, perché ragazzi adesso al di lato 11, ma loro hanno fatto quello che hanno voluto fino al gol di Lukaku, ne avevano già avuto un paio di occasioni, poi hanno avuto quella di Lukaku, basta, la partita si è messa sui binari giusti, hanno controllato, noi andavamo a sbatter, perché poi dopo devo pure sentire, devo pure sentire, no però il Milan dopo il vantaggio è uscito, insomma è stato lì a giocare, ha giocato perché gliel'ha permesso il Napoli, perché il Napoli è questa squadra qui, è capace di difendersi, non ti dà spazio, ti fa giocare, tu sembra che sei lì, ma in realtà stringi, stringi, l'unica parata di Meret è stata nel secondo tempo sul finale il tiro di Leao, centrale oltretutto, non ha fatto nient'altro, il Milan sembrava che nel primo tempo fosse, dopo il gol, si fosse ripresa, è il gioco del Napoli, quello volevano e quello è stato fatto, questi sono una grande squadra ragazzi, i Scudetti non si vincono tutti come quello di due anni fa come Spalletti, i Scudetti si vincono anche così, soprattutto così, non è che puoi sempre dominare l'avversario, hanno fatto una grande partita, perciò bisogna togliersi il cappello davanti al Napoli perché è stata una grande prestazione, noi siamo pessimi, noi siamo penosi, noi non abbiamo né capo né scoda, dalle scelte a tutto qua hanno una confusione inenarrabile ragazzi, non vi ho neanche salutato ragazzi, io che solitamente inizio il mio motto con belli siete, vi chiedo scusa, belli siete ragazzi, buonasera e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike, nella casa del pane Baluna, allora ragazzi insomma è stata una serataccia, una serataccia come tutte le altre, se del resto il Milan quest'anno è questa roba qua, la nostra rovina è stata vincere quel derby là, forse sarebbe stato meglio perderlo quel derby, magari in quel momento dove l'allenatore era sulla graticola, insomma lì l'ha salvato, forse sarebbe stato meglio perderlo perché adesso non do la colpa all'allenatore però insomma ci vuole una scossa e lui non la sa dare, anzi tutto questo carattere secondo me lo sta tirando fuori in maniera sbagliata, in maniera sbagliata sostanzialmente, lo sta tirando fuori in maniera sbagliata perché insomma tu non puoi privarti del tuo giocatore diciamo migliore perché quello è, il Milan è questo e il suo giocatore migliore le ha nel bene e nel male ma il suo giocatore migliore, privartene non va bene, non va bene e poi va bene la sfortuna di Pulisic che ha avuto l'influenza, ma poi ha avuto l'influenza, ha avuto la febbre all'ultimo e poi gioca all'ultimo in mezz'ora e allora non poteva giocare all'inizio, se ha avuto la febbre ha avuto la febbre, non lo so, certe scelte ma veramente ma è tutto un disastro devo essere sincero non mi è piaciuto, non mi piace assolutissimamente nulla di questo Milan, di tutto, di tutto veramente, il Napoli che dire, il Napoli ha fatto una grande prestazione ma poi lo dicono anche, cioè ragazzi il Napoli, il Napoli ha vinto 2-0, ha segnato Romelu Lukaku al quinto minuto e Kvarascheglia al quarantatresimo minuto, sapete quanti palloni hanno toccato Romelu Lukaku e Kvarascheglia in tutta la partita? Oltretutto poi sono stati cambiati a 20 minuti dalla fine? 4, 2, 2 per 1, uno hanno fatto gol per uno e l'altro hanno fatto la giocata, basta non si sono visti mai, non si sono visti mai, cioè noi con una difesa imbarazzante del genere, io non capisco, adesso Gabbia va bene, non c'è neanche Gabbia, Tomori è scomparso dai radar, a un certo punto era scomparso dai radar Pavlovici, oggi abbiamo visto Pavlovici, tutto un tratto dobbiamo giocare con Malik Chao, che non capisco che giocatore, ma vi rendete contro la difesa del Milan oggi, ha tolto Terracciano che doveva per forza sostituire Teo Hernandez che non c'era, gli altri erano Emerson Royal, Malik Chao e Pavlovici, questi qua non giocherebbero in nessuna squadra di Serie A titolari, farebbero le riserve, farebbero le riserve ovunque, da noi oggi erano titolari nella partita clou del campionato contro la prima in classifica, a centrocampo mancava rendersi, ok, Fofanà ha fatto una bella partita, non gli si può dire nulla, davanti il tuo uomo migliore, hai deciso di non farlo giocare perché ti sei offeso delle parole che ha detto, ma ragazzi, inutile andare in conferenza e dire quello che conta è il Milan e poi tu sei il primo a mettere da parte il Milan e non mettere da parte i sentimenti, se ti sei sentito offeso è un problema tuo, te la risolvi tu con Leao, non facendolo giocare, devo essere sincero, perché con tutto il bene che voglio, con tutta la ragione che posso dare a chi dice che Leao è fastidioso, che Leao comunque quando prende palla un pericolo lo crea sempre e i giocatori avversari comunque quando c'è Leao non sono mai tranquilli, al di là dell'essere ciondolante o quello che volete voi, perciò non raccontiamo balli, il Leao deve essere titolare in questa squadra, soprattutto quando ti mancano poi Pulisic, quando ti manca l'altro attaccante, Morales, anziché fare l'attaccante, fa tutto tranne che l'attaccante, poveraccio, torna in di pesa, rincorre, e poi non puoi essere lucido, insomma, tutto male, tutto, 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 tutto male veramente ragazzi, veramente non lo so, non lo so, non mi piace, non mi è piaciuto nulla, poi me la riguarderò e vedrò bene cos'è successo, però non mi piace nulla, belli siete!